Ragazzi ho un mio amico Gabri Un grande amico Direi Che ora lui non è microfono Però sono in un party e quindi Mi sta scrivendo La chat Del party Della playstation però voi non lo vedete Ok adesso ti riesco a trovare Gabri 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 Dove sei? Sei visto? Sì, so te Gabri mi sto unendo Ciao Leore Sì, so te lai Eh, bro, fagliatini ti vengo là In sua battaglia Dove se vuoi giocare Uè, banana Banana Man Blue Ciao Gabri ma Sassunto è un truccatore, Gabri Eh, Gabri, mi senti? No, non lo so, sto chiedendo Speriamo un attimo in certe parti Eh, Gabri Ma Sasuke è un truccatore? È un truccatore Sasuke Fammi sì Oppure no È un truccatore Sasuke? Perché non sa che vuole scambiare Oh, Sasuke, perché tu mi hai levato? Ti hai detto? Perché mi hai spelluto? Perché, frano, mi muti? Ti avevo mutato un attimo perché avevo dovuto dire una cosa a Gabri Perché mi aspetta? Ah, allora rientro Ah, ehm, però frate, puoi farmi un regalo? Tu posso dare un'arma al 58 Due Eh, no, sto parlando con Criale Criale, puoi farmi un piacere grandissimo? Eh, Criale Sì, va bene E non mi fa entrare, perché la roba qui va È pubblico, comunque Il mio favore speciale è da parte di un mio amico E se oggi gli devo parlare Lui ha le cuffie Gabri, invitami Dani Roma, pure a te mi serve sto piacere grande Entrate tutti e due Eh, raga, mi dovete invitare perché se no Gabri, invita Criale Sì, la voglio con l'arma Gabri, un mio amico Grande amico No, d'accordo, volente 106 Oddio, non te la troppo più Ma comunque spero non truffi perché Io non truffo, devo dire subito perché ho un canale di subito e sono in live ora Non truffo Ah, lo so, lo so Oh, fra, io c'ho 29 iscritti ma almeno c'ho un canale E c'ho una dignità Buono Io invece c'ho 82 iscritti, ho una dignità E non truffo Bella c'è la Eh, c'ha le cuffie rotte Gabri Che ti chissi di? Raga, invitatemi Non mi fa entrare Il favore non è Ossidiana Gli serve a lui Ossidiana Scaglia buia Lucide Pago Montano Gabri perché devi trattarmi 106 Guardalo Una povera femmina Una povera femmina indipendente Con Il di dietro di Il bullone Va ragazzo, non sto entrando da voi A trovare in modo Con le biappe sono E È un cappello da Cappo Ciro E Al posto di scambiare ti do una cosa Va bene Ma voi mi conoscete te E il Gabri Ti do Spago Infilato È una Affettatrice Vinterpec 58 No Non la voglio Perché Le cose Che poi Mi tocca regalarle Al mio amico Spider Che io Non me ce ne faccio Un cazzo Rega Comunque Scrivetemi al mio canale Sono in live Guarda che ti regalo Ho visto che sei lei Questa è una brava persona Vieni qua Al posto dei regali Voi non venite Gabri può venire Perché lo conosco Da tanto tempo Gabri Bravo E' salita In quel preciso Preciso posto Allora Questo elemento fuoco Bella Fide Un attimo Questo elemento Di energia Questa Bella roba Grazie bro Questo Questo Uh grande Il quarto mi serviva Sono grande Questo Questo con un perchepico Buono Questo che poi me lo ricrasto Buono Gabri Io regalo il brum brum Ok Ah se brum 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 Vuoi intendere questo? Sì Quello lei è il mio brum brum Questo qua è il mio brum brum Stampato Ah io ce l'ho il 34 Chi lo vorrei forte Quello lì Questo guido Che è una delle mie È una delle mie armi Tieni così Tieni così Tieni così Tieni così Tieni così Tieni così È una delle mie armi Da mischia preferite Mi dobbiamo Mi dobbiamo Quello Ma la dobbiamo Ma la dobbiamo Fino Ma dai bro È l'unico No È il 34 Ti dico la mia vita Però Ti dico la vita di questo Scuregoletta 240,5 Su 365 Praticamente da collezione È la mia 354 Su 375 Mi dobbiamo Fino a qui Voglio fare una cosa Che l'ho fatta pure un mio amico Che cosa? Ti sicuro non è che fare Perché non l'ho mai fatto Troppo Mi sapete ora che succede? Se vediamo la ricicla Oh my god Grazie bro Che sei data Mi conto di È il king Sai che potenza sei? Aspetta Te che potenza sei? Io praticamente Sarei livello 27 Però non siamo nella mia tavolaccia Lui è livello 48 Credo Allora Beh ragazzi Per i fessi 47 46 Di più 50 50 56 56 55 55 Ah ok 55 Molto bene Eh bro La vuoi una morte Tascaria al 58 Un valvasore al 58 Lo spazzino al 58 Un bulldozer al 58 Non ci ho capito Lo vuoi un bulldozer al 58 Una morte tascabile al 58 Valvasore su Capito il bulldozer Morde tascabile e basta Ok che sto accraffando Secondo te Indovini i perk di questo bulldozer qua Oh frate Dimmi i perk di questo qua Intanto vieni qua che ti droppo le armi Se le ho droppate Aspetta Mi dai Elementari Polveri da sparo E un po' di argento Questo mi serve Intanto Intanto vieni qua che ti serviva Allora Quando piglio il mio voto finale Il 7 e mezzo Te lo prendo Gabriele Dopo te lo compro Quando piglio magari il 7 e mezzo Te lo compro Che per me C'è il 6 e tanto Cos'è che ti servono I materiali Tu mi avevi chiesto qualcosa Allora Polveri da sparo E Argento Aspetta Tieni Tieni Ah poi mi dà sparo eh Argento Argento Ma perché Gabriele È un dannato Ma anche a me servirebbe Argento Però te l'ho dato Anzi attiva cello Mi servono A me Attiva cello non è bene anche per me Non fa niente Ho sprecato la mia ultima stisacella Grande I tuoi che perché aveva Ah è vero il mio era questa che ti voleva Invece c'è un perché Ve lo vuoi dare E tu sì perché Aspettate le gambe Posso vedere anche tutte le armi del deposito Perché almeno c'è più spazio Aspetta che infatti Lascia un po' io che c'è un po' troppo Anche anche a me La meretta c'è tanta roba Io Non vuoi dare C'è i malachite da darmi C'è i malachite qui alla Non po' Mi spiace Se no te l'avrei dato Sette di malachite Perché sparì a Gesù Perché sparì a Gesù Lì a Gesù La Cristo La Cristo La Cristo No là c'è Zeus E là c'è Potti Domas Gabri Ti aiuto io Conficiando tutti gli dei L'appartamento dell'Iti Sta in più Signora È il mio set di malachite Non so se posso Vorreste signora Questo lo uso per truffare i truffatori Bello Indovina il livello E Che cosa stai faccio qua? Oh Sento le peggio droppate Signorino Signorino Le metto la nota eh Le metto la nota Indovina il livello E Quanta dura e velocità Questo Tenere questo Mettere in mano Bacca Ok Qual è? Questo? Ok Figo No Metti in mano È tua Ah ok Hai detto mettere in mano e basta Quindi pensavo te lo dovessi ridare Grazie Ah niente Oh Indovina che il livello è Quanta vita ha questo schianto Diga 28 distrutto Un colpo Si distrutte Ah vuoi sapere Vuoi il mio bulldozer che c'è da quando sono a livello 1? Qual è? E che livello è? E che livello è? Tu cosa dici? Boh fai che? Il livello del quant'è? 58 Te lo regalo Te lo regalo Non bestemmiare Il mio primo bulldozer Allora La mia prima arma leggendaria è stato il bulldozer al 58 La mia Quella lì è il mio bulldozer Guardi i perché Porca puta Come il rigolo Bro quanto sei gentile da 1 a 1 Eh da 1 a 1 1 e mezzo Eh bravo Eh ma Perché come fai a vero da Quando è iniziato a salvar il mondo Che è full Ma te Sai cosa vuol dire avere 15 amici di Montespago? E lo sai cosa vuol dire Bella Sniper Lo sai quanto vuol dire averne 30? Sai cosa vuol dire avere degli amici? Allora io mi ho acquisti troppo un'arma Sì Io te la regalo Tu fai lo spawn Non la vedere Va bene Grazie Io vado lo spawn C'è troppo con il simile Nel king È sbagliato Bro comunque Direi che sei troppo gentile Direi Un attimo che si lascia caricare La parezza Un attimo che si carica là Se non si vedesse Sbagliato Non sta Cos'è però che c'è la vocina uguale a quella Sbagliato No bro Sono diverso Non mi piace Sì 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 No Secondo Prendi Me la ripiglio Eh Bene Mi hai permesso in giro la scala Vuoi un'arma che il re Klausio non ha Allora deve essere proprio rara se Re Klaus non ce l'ha Questa, Re Klaus non ce l'ha Ah, e vorrei sapere un'altra arma e Re Klaus non ha Te la sto craftando, aspetta Guarda Re Klaus quest'arma non ce l'ha, si è c'era, è rarissima Eh, guarda la mia, guarda la mia Eh, guarda la mia, te li puoi pure pigliare Ma, 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 ma cosa ti hai preso? Stai male? Hai la bronchite? Hai sbattuto la testa? No perché Perché se no mi si Mi stanno venendo Mi stanno venendo gli starnuti Eccoci Se vengono gli starnuti sono messi male Ok 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 Ecco Ecco, se no, sai, mi servirebbe Eh, erbe fibrose Ce le hai? Non ho quelle Buona Oppure vite e bulloni Ecco, le vite e bulloni sono quelle che mi stanno prendendo più nel pochi Direi che ne leggermente tanti Tutto su No, ora quanti stacchi Ma sai che io quante me ne faccia regalare al giorno? Tipo dieci stacchi Ma quelle armi rarissime si lasciano lì? Eh, se vuoi pigliatela perché io già ce ne ho Grazie, grazie Le riciclo subito È stato un piacere Eh, io pure perché c'è Mi hanno pure due vite e bulloni Bru, ma te sei il cazzo Ma io sono matto Ma io sono... Aspetta Ma io sono matto Ma io sono matto Ma la devo prendere? Eh, che ci Ah, va bene Ma, 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 ma Non dico nulla perché sei pazzo Guardate sono pazzo No Oh, va bene Ma quando te Uno dei ching è pazzo No, ho visto che sbaglio Grazie, tutti questi materiali mi servono tantissimo, te lo giuro Ti servono le assi? Una domandina, ma se ci giochi a questo giorno? Se guardate quanti alberi spacca il giorno, mi spaccherà tipo 100 Mi chiamano il falegname Il falegname Ti provo a riempire un po' di misti Ecco, me ne so scordato, mi serve legno e pietra Il resto non giuro perché ho fatto riempire un mio amico di Pallarguto Un mio amico di Tavolaccio e un mio amico di Montespago Ok, buono, vabbè allora fa niente Ma poi che ti chiedo? Che tu mi hai dato un botto di roba, ma che ti chiedo? Perché sono così gentile? Sì, infatti, basta, ti chiedo più nulla, se no sembro scortese Chiedo troppo cosa Basta, basta Vieni fuori Ma non c'è questo punto? Questo? Ah, questo punto è questo E se ho visto vedere le trappole a livello zero Madonna se sono pieno di assi di legno E di soprattutto viti e bulloni Te sei un pazzo Ecco le munizioni Le munizioni ci amo Fatti da un bacino Oddio, la facciano perché mi serve vedere i video Ok Bella la macchina da scrivere Ma sapete quante armi ho? Quante? Quattro Allora, la calva Ma sei scemo? Mi hai dato tutte queste armi? Oh, guarda Quattro Come questi qui Uno, due, tre, quattro Il problema Allora, mi sento Vero Oh, comunque chiede un nemico in chat Se gli devo qualcosa anche a lui Perché se no mi scassa i coglioni Falla entrare Falla entrare Get Pro Entra Il problema è che non posso evitarlo Perché mi dice ancora che c'è Gabri e Dani Roma dentro del gruppo Ma in realtà non ci sono Io non posso evitarlo Ma stai, 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 ma stai Allora, io vorrei regalarti della malachite Ma io non la posso dare Perché io tra uno di questi qua della casa Arrivo ai progetti in malachite Però non Mi viene voglia di darla Però non posso Dimmi solo che cos'è Non la voglio Però dimmi soltanto che cos'è Te li faccio vedere Però non li prendere No, li prendo, bro, non truffo Ci ho messo un mese per farmarli Sì, tranquillo, non te li prendo Sono stato mesi e mesi Nel monte spago del mio amico A cercare la malachite Bella fette Ma infatti fa bene a non darmi Perché se ci ho messo un mese E con un mese ci ho pure farmato Quelle armi che ti ho dato Ma vabbè, ma brutta Ma non credi di stare Esagerando leggermente Manda, gira Oggi a te e mai a me Vabbè, deposito un po' di cose Perché me la composta Ma leggermente troppe cose Allora Questa Questa 142 di quarto Sono rimasta 22 Ecco che apri Hai corluce interraggio Aspetta, gli vado a chiedere se dopo Magari Gli apri forse dopo lo scioppo Devo prendere però Un botto di 7 e mezzo E poi te lo scioppo Però scioppo gli stack Quindi Serviranno tipo Bro, lo sai cosa hai fatto te? Mi hai fatto i guadagni E magari di scioppo Uno stack di corlo Uno stack di raggio Sasuke, lo sai cosa hai fatto te? Mi hai fatto recuperare tutte le armi Che ho regalato ai miei iscritti Minchia Ma vuoi sapere A uno in partita cosa gli ho regalato? A un abbetto in partita A un livello 1 Sono arrivato a fare le missioni Dei livelli 1 Perché mi piaceva lasciarmi stare Sì, cosa hai dato? Cosa? Il mio inventario Era solo di armi 130, 106 82, 58 e 20 Regal No, il leno Guardate Il mio cazzo di deposito Quanta cazzo La regina Minchia Minchia Ne avevo poca Bella Ti ho detto le tutte le mie Perché tanto me le farò Mentre sto con Ok, grazie Oh, lo spago filato È figo Madonna Ho beccato un cazzo Ma 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 Va bene bro Dai Ma 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 Bro Ma Bro Te sei Paczo Sono diventato un povero No bro Dai figlio Se le le armi Siste cose Decisa dopo un mure No Bro Non è che Perché non ho fatto Un Bro Dai ora Ora che tu Da con me Ci sono Le persone Lei Che dice Dimmi il suo Dì Almeno mi regala qualcosa Anche a me Ah È Rosicano Ma Deve Stanno Rosicando Questo viene Nella mia live C'è uno È Un mio fan Che Che Mi segue Da un po X Sniper X Sta dicendo Pro È che Puoi Regalare qualcosa A Pro Mi ha scritto Perché sono Pro Non è che Mi può Regalare qualcosa E poi c'è Un altro Mi amico Lui mi sente Sì Lui ti sente Comunque c'è anche Un altro mio amico Che ora Ha scritto Che ha scritto Anche io Dì Se stanno Rosicando Mi faccio Un po Rosicare Chiedono Se stai Se state Rosicando No Regal No Stefano Ora Vorrei Farti Vedere Quante vite Bullone Mi ha dato Guarda 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 Tu Vuoi togliere La minimappa Hanno scritto Ovvio Ovvio Mi taglio le vene Aspetta Togli la minimappa Togli la minimappa E girasi Così Aspetta Com'è che si faceva Togliere la minimappa Allora Vai su Impostazioni Sì E clicchi R2 E ci si è scritto Minimappa E devi Messa No R2 Sì Ah ecco Minimappa Ecco No Ho tolta Sì L'ho tolta L'ho tolta L'ho tolta Tanto Poi me la faccio Ricassa Dal dio Spider Che sta lì Non si sparava Uccide Bro Ma io ora non so Dove sono le cose Perché non ce l'ho Comunque non ci sono Abituato Poi Bella La fattura 306 La vedi Sì La vedi Le mie tre armi Vedi Le mie tre armi Perfette Vuoi sparare un colpo Con questa Ok ma te lo Da fai ora Eh la Spari un colpo Ridammela Intanto Dio Bro No 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 Spari un colpo Con quella Con Quella Che 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 Poi Mi Ora dico Ora dico Che c'è Ci sarà Con un youtuber Grazie Prego Come far valere Le armi Un po' di più Parti sparare Gli youtuber Ti piace Le mettono Energia Grande Stefano Cosa Ti piace Le mettono Energia Cioè Allora Ti dico Cosa mi serve Uno d'argento Un'attivacella E spago comune Allora Uno di Spago comune Un'attivacella E uno d'argento Allora Uno di questo Uno di questo E E E E Linguano Uno d'attivacella E uno di Di argento Spago comune Non ce la puce Nessuno Ogni persona Che cosa Non ce la Non ho Ma se io ne ho Tre stacche De 129 Io ce la Zero Non l'ho mai avuta Per me Voglio Le farlo Tantissimo Un po' di più Me ne servono Tipo altri 36 Ma te le dò Tanto senza problemi Oh comunque C'è un mio Fan Che chiede Se hai Dell'argento Da Dagli C'hai Cosa Sei dell'argento Da dagli A questo Mi fa Non ce l'ho Però Provo a farmi Dara Ti do Una cosa Che praticamente Oh Sta entrando Gabriele Ora Bello Amo Da pesca Lo sai che non l'ho mai sentita parlare di questa cosa È uno delle spate più rare del gioco Boh io l'ho mai sentita parlare figa E infatti è rarissimo Ho fatto il mio migliore amico Ho scoperto una nuova cosa Ho fatto il mio migliore amico con un'arma droppata Bravo Ciao Gabriel è un pazzo Mi ha droppato un botto di cose Gabriel è vero che sono un pazzo Fai il piccolo a testa o no? Diggi che sono un pazzo Vai 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 Se lo vedo lo vedo Gabriel sapete qual è il mio massimo di armi? D'assalto ora È tre Ah Finalmente è successo Grazie Grazie Gabriel Come vincere Si vede che siamo tanto amici? Sì Ok Aspettate che Gabri A me serve ora malachite E magari due armi se c'hai Ho una Va bene Vole 58 Non so Sono le ore Grazie Gabriele Ti servono? un attimo è un attimo in attesa dobbiamo fare così c'è un botto c'è un botto c'è di che bulloni intanto posso prendere posso prendere ok c'è i video bulloni davanti ti dà fastidio si è rigeneto un po chi ha le prego signore signore che mi pensa drogato la metà che mi ha dato la metà che mi ha dato gabrie no raga no state male voi ti piace gabrie gliel'ho cascata io a moda pesca è rarissimo il progetto 58 è stata la prima spada che ho trovato sui progetti non so poi che cazzo era ora che mi ha dato gabrie? bello è creatore di soli io c'ho il progetto però mi serve questa questo gabrie ah per quello mi serve gabrie 11 di argento e un'attiva cella mi vuoi da un po' di argento così graffo pure a lui la moda pesca e me lo chiedi anche dopo tutte le cose tu mi ha dato tieni ah no l'argento l'argento ci ha pensato gabrie tutto ci ha pensato gabrie però non pensavo che gabrie avesse l'argento ti l'ho arresto? grazie ti ha fatto la cosa sbagliata non è questo ma che cazzo? c'avete un'altra tipacella? grazie 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 prendo attiva cella a moda pesca graffo a moda pesca? cioè io prima graffo a moda pesca mi viene falce elegante ma boccata più mondiale al mondo noi l'altro ti porto no ma che è l'evento fuoco? no non è l'evento fuoco guarda e c'è tipo del fuoco c'è uno uno una di macella e uno di polvere di sparo ogni creatore di foglio una di accella e uno? di polvere di sparo mi raccomando di quei creatori di foglio questo è perfetto ok Gabri, intanto se vuoi impiegare di questo che io me lo sto trascando Gabri Gabri, io me lo sono trascando vuoi vedere il mio progetto e cos'è? c'è figo l'elemento energia c'è il Gabri eh, Gabri, ok quella che ti ho trascando Gabri, io te lo dico, ne ho poche quindi te ne posso datere eh, ti piacere se quelli mi salvano di più ne ho solo 15, ragà ne ho pochissime io Gabri c'è una faccia elegante di quelle là belle e pesanti? sui 100? fammi sì o no? da darmi da darmi quando chiedo una cosa a Gabri lui va subito in deposto grazie, bella oh, bella pesante questa all'82 bella pesante hai una capra capra Gabri, perché c'hai una capra con il fuoco? questo si chiama essere capra a scuola mettile in mano insieme a me e fai ok, Gabri ci sei domani? fai sì con la testa o no? ci sei domani? Gabri, ci sei domani? magari ti piglio 7 metri ti piglio quella versare meglio a scuola in offerta magari le piglio due uno lo scambiamo ok, Gabri prova se piglio che ti ha messo ci sono un po' di 4 euro sui give out ti provo a prendere uno per solo oppure due uno da scambiare e poi ci scambiare per 5 euro sui give out costate con 3 euro e due prova a prenderne due poi se ce la faccio io sto sopra il dambito ma non ho quanto bella la ma spettrale io una volta ce l'avevo al 55 però era scarica a me sinceramente va bene anche al 58 anche se non è al 106 comunque è molto già premuto l'attimo criale non diciamo niente che cazzo stanno niente così stiamo stiamo a la domani a domani a domani ma perché mi hai avuto un amore è una delle persone che ci sono che ci sono una delle persone che non mi ha mai truffata mi sta sempre vicino ma perché mi hai mi hai ritrovato Bella Gabri Aspetta posso dire una cosa? Guarda Guarda Gabri Gabri Capri facciamo una competizione? Gabri facciamo una competizione No rega no 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 rega mi riempite tutto l'inventario Hai visto che competizione? Rega mi riempite tutto l'inventario Ho 135 su 140 No rega no Io ho 55 su 130 Bella Gabri Minchia no 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 Rega No pigiane un po' Pigiane un po' Perché io ora Non posso tenere tutte Perché se no non ho spazio Ma sai che Sai Gabri perché noi siamo amici? Perché? Allora A me mi truffavano Entro da lui Gli do uno stack a 28 di lucide E vabbò Al caro vabbò Perché io le do? Perché mi do la truffata? A un certo punto Perché lui non truffava Poi Sono diventati amici Ora Appena io gli do qualcosa Ma non c'è altre volte Io gli do Io cerco di dargli quello che gli serve E lui c'è qualcosa che non serve per stare E lui mi ha dato Bro Te hai un canale YouTube 29 iscritti Sono un po' povero Ti sponsorizzo vai Perché non vuole l'ottima data Non da oggi ma da domani perché Vabbè quando vuoi basta Ti posso sponsorizzare Perché da tutto Vole l'ottima data Lasciamo stare va In quattro io ti dico che Una persona più gentile di Gabbri Non è mai cistita E guarda Lo so che è gentile A me basta Tu mi chiedi qualcosa Io la do Basta tu sia un truffatore Se c'è un truffatore Mi chiede delle cose Io troppo uno di fiore Invece se mi chiedi un'arma Io te la do Ma sapere che è successo? Truffatore in live Bm Bm A un certo punto Ecco che succede Bm è pazzo Credo Si infatica a bestemmia Ogni 3 secondi Però fa niente Per fortuna Non ti ho detto Che doveva posare Cusse Perché se no Si sentiva dalla live Tutte bestemmie Di lui Se no poi mi bannava In un account Anche di YouTube A un certo punto Veramente Io ti ringrazio Per tutto Lo detto Vabbè Ti faccio vedere Dove l'ho truffato Però poi Un mio amico Che è venuto a casa mia Perché doveva Distruggere Tutta la mia caccia base Per crearne Questa qui Se ora è Ho dovuto distruggere Uno dei miei ricordi Più belli Di tutta la mia vita Da YouTuber Il posto dove Ho truffato Quel truffatore Oh Era laggiù A un certo punto Ecco che ho fatto Il tuo amico Tu cosa mi daresti Quello Guarda che mi ha Troppato Uno stack Di malattite Ok Io gli ho detto Tu cosa vuoi Uno stack Di qualcosa Io gli ho detto Puoi chiedere Sì Io gli ho detto Uno stack Due stack Di producenti Io gli ho regalato Due fiori Perché Io era Complice Della truffa A me Mi servirebbero Non so che sono A tavolacce Però mi servirebbero Arcobaleno Raggio solare E scaglia buia C'è una malattita L'unica cosa Che mi serve Quanta te ne serve? Tanta Quanta? 20 40 50 100 200 BF E Non è un malattito C'è La vecina Quasi uguale A Mr. Peter L'ho detto Sì Ha trovato Troppo Tora Bimbo Merda E la vecina Bimbo Merda E come dovrebbe essere? Bra 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 Che fai? Troppe? Eh? Bra Ti è stato trovato Da King Ah Tu fai Tu fai Troppo Tora Vimbo Merda Bra Bra Ti manda Tira A te A te A te Ma A me Io spero Tu abbia finito Di darmi la cosa Perché io Ora devo andare Su battaglia L'avevo promesso Cazzo Domani c'ho scuola Che c'è Io ne so Guarda io spiego Ci vediamo domani Perché siano qua Domani Non posso giocare La play Ciao bro Regasta Che rapazzo Perché la Pumma Tornigava Madre Gasta Madre Gasta Madre Gasta Stammale Sta male Oh Tornigava Gecava Di batteria veramente sta male cosa succede ma pieno ma dove se c'è furca non la ma dove se c'è furca 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 Grazie. 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 raga, e c'è reclimenti di house che sta giocando a creativare il problema per il spettacolo, e ce l'ho attendo, e raga, non so come sta facendo lavoro si è proprio vecchio, sono piccone da nabbo non so come la nabbo non so come la nabbo ma che so come la nabbo Giunfri Per Giunfri non è molto simile Per Giunfri Oh Per Giunfri un mondo del bing che già fa 880 milioni di bing, aspettate un attimo. Gianfri, ciao Gianfri, ciao Gianfri. Scusate, guarda tutto, è normale, ho acceso il computer. Raga, riavvio la live, aspettate.